Non voglio fare commenti qualunquistici, però la sinistra ha un po' perso ultimamente, anzi cerca di essere un po' più larga, ma i temi di sinistra li abbiamo un po' persi di vista e quindi forse è per quello che perde consenso. La destra ci ha attaccato questo centro, ma io ci vedo poco centro, tanta destra che è associata a forme anche preoccupanti e violenti, insomma per cui non lo so, la politica è ormai diventata credo solo ricerca di consenso e quindi quando si fanno le cose soltanto per avere consenso questo vale sia in politica che anche nel campo artistico, ovviamente uno si snatura e quindi si perdono un po' di vista i principi e si perdono soprattutto i progetti a medio e lungo termine, si vive oggi per domani per mordi e fuggi e quindi ovviamente è difficile costruire una progettualità e in questo senso penso che ci rimettono soprattutto le nuove generazioni. Noi che ormai abbiamo una certa età, alla fine la nostra vita l'abbiamo fatta, è un peccato appunto per chi viene dopo, però insomma senza essere pessimisti, diciamo che nel momento in cui le cose non andassero proprio più per niente, si spera che le nuove generazioni siano loro a prendere in mano le redini e a ricostruirsi anche sulla base di principi legati poi allo stare insieme, alla cultura, al senso più profondo di essere sociali insomma e quindi di cercare di ambire qualcosa di più alto che si possa vedere al di là del nostro naso.